Poi mentre appara ragazzi, buono X, oggi come i gatti, oggi sono Danasone e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video Che ragazzi, nuovo video di FIFA, e bene si perchè infatti l'ultimo è stato di Call of Duty E ragazzi, prima di iniziare vi volevo dare due annunci importantissimi Il primo è che finalmente ho finito il periodaccio di scuola delle verifiche Quindi ho un po' più di tempo per dedicarmi al canale E mi è venuta in mente questa magicata Dato che di FIFA vorrei continuare alla grande perchè mi diverto un macello, la serie Axels, Road to Glory E su Call of Duty vorrei iniziare per poi continuare Road to Commander Mi è venuta in mente questa magicata Ragazzi, io in questa settimana, come ho appena detto, ho un po' più di tempo libero Mi sa molto probabilmente che cercherò di caricare un video al giorno Appunto alternando Road to Glory con Road to Commander Magari intervallandoli, magari qualche altro video particolare Come magari un pimpale o cose varie Quindi mi raccomando, questa settimana vi voglio carichissimi Credo che inizieremo già da domani, quindi da sabato allo sabato Spero che appunto questa cosa vada avanti Cioè, se riscontro un buon feedback Cercherò veramente in tutti i modi Di continuare a portare appunto questa alternanza di video Il più reum... Frequentemente possibile Se si dice così Credo di sì Comunque, la seconda cosa vi volevo ricordare Passare da OneFIFA.com Se siete interessati a comprare anche di FIFA E mi raccomando, utilizzate il codice Axel come discount code Come vedete ho appena preso i miei belli FIFA points E ne andrò ad ottenere all'incirca Ne andrò a spendere un 2700 Perché è d'obbligo in questo pack opening trovare qualcuno E detto questo, iniziamo con Hazard Che ci fa trovare Raffa Secondo pacchetto Il Davide Alaba Alaba Dai Davide Oddio Iniziamo bene Leonillo Mamma mia Intanto andiamo ad aprire un altro pacchetto Nella quale ci accingiamo a trovare niente No ragazzi Non sto proprio No Ma non ci credo Non so neanche se ho trovato un giocatore raro Ancora Non trovo nessuno Dai Iguain non guardo Iguain non guardo Non deludemi mica Altre apro lo sguardo Apro lo sguardo Che italiano è? Ma che schifo Dai la squadra la settimana è stupenda Cioè Emaniche Griezmann James Wanyama Eripe Dai io con la bandana della rimonta No Scusate Con la bandana della rimonta Troveremo Al 2000% qualcuno Infatti Oddio Oddio Ragazzi The nose Pack Sputato un bambino Dai Dai io L'abbiamo aperto Col naso Ci abbiamo già speso Tecnicamente Dieci euro Evra Yeah Ragazzi D'ora in avanti Ogni pacchetto In cui Non troverò Niente Di raro Dieci flessioni Mi spacco Tipo Vai Allora Iniziamo da questo 81 E andiamo così Dai Quindi questo O meglio Per questo pacchetto Non devo ancora fare nulla Mi basta un giocatore Rolaro E c'è anche qua Piti Ragazzi Io credo Di andare a spenderli tutti Questi fa points Però voi mi dovete fare un favore Dato che io lo faccio Perché voglio Ho voglia di fare flessioni Si Così Voi dovete Anzitutto Lasciare un bel mi piace E secondariamente Scrivermi Anche Oltre alla sfida Ecco qua Il primo giocatore Oltre alla sfida Che vi ho già richiesto Una penitenza Da fare nel prossimo Pac-offling Nel caso Di cui appunto Non trovi niente In un pacchetto Quindi Detto questo Direi di iniziare Io cristallo Così si vede Dieci abbiamo detto E dieci Adesso Lo apro da così il pacchetto Perché sennò Devo risistemare tutto Quindi andiamo a scartare Non credo Di continuarla così Perché Muoio Veramente E la doma c'era Che non me ne faceva più Sto facciamo più Allora va Dai debitone No Che padre Altri dieci E ragazzi Dio santissimo Gesù Dove sapere una cosa Io l'avevo fatte Ma Tipo sembravo Straspastico Quindi ora mi tocca rifare Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otte Nove E dieci Così mi sporano a vedere Le mie braccia iniziano a cedere Quindi Vediamo se questo pacchetto Ci può dare la fortuna Oppure no Sempre Alaba Non ci credo Inizio a morire O gli allenamenti Oggi Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ragazzi Mi spiace Ma questo è l'ultimo pacchetto I vuoi Vediamo Non ci posso credere Oddio Santissimo No dai Facciamo gli addominali Vi prego Un'ultimo sforzo Signori Dai dieci eh Oddio mio Non ce la faccio Sì Sì Oddio Non ce la faccio Due Tre Non ce la faccio Dopo un minuto Dopo cinque minuti Dopo dieci minuti Sì Ce la faccio Uno Due Tre Montate voi Trecento Yes E ragazzi Sto morendo Dovrò iniziare a riprendere la mano Comunque andrei ad aprire l'ultimo pacchetto E me ne sbalto se non trovo nessuno Quindi Ultimissimo pacchetto Ricordatevi di lasciare un bel mi piace Che i capelli agriaccianti Che mi sono venuti No ragazzi sono morto Mi spiace Anzi Facciamo così Se questo video raggiunge 4000 mi piace Ci sarà la seconda parte Ci sarà la seconda parte Con una sfida O meglio Penitenza Scelta da voi Quindi mi raccomando Commentate questo video Mio dio che schifo Scrivendo Una penitenza Di vostro piacere E se sarà una di quelle Con più mi piace E che più piace a me Io la farò Quindi ragazzi Detto questo Io vi saluto Io vi dico potente A passare nel prossimo video Ciao a tutti